Si può leggere bene nei progetti dell'Atletica Vaticana che ha una visione dello sport veramente inclusiva, pensando sempre agli ultimi. Non pensa mai nei trionfi individuali, ma sempre in una visione d'insieme. È molto bello che in questa nuova sede c'è solo un grande trofeo e dopo c'è un spazio ancora vuoto, speriamo nuovi trofei. Ma devo dire, conoscendo un po' la realtà della Vaticana, che quello vuoto è già pieno di trofei. Il trofeo dell'inclusione, il trofeo di andare all'incontro ai bambini malati, il trofeo di pensare a chi non ha possibilità ormai di fare lo sport, lo trofeo dell'amicizia con i poveri, quelli trofei molto rari e difficili di avere. L'Atletica vince ogni mese. È una complicità molto bella quella del Santo Padre per l'Atletica Vaticana, perché si vede in questo affetto di Papa Francesco una comprensione del ruolo molto positivo che l'Atletica Vaticana e lo sport hanno per la missione della Chiesa. Grazie a tutti.